Buongiorno a tutti, sono Matteo Ribaldi, responsabile degli affari istituzionali di Link by Superpedestrian, un'azienda dell'MIT di Boston. Sono contento di essere qui e ringrazio Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale per averci dato l'opportunità di presentare il nostro piano natalizio. Noi tra l'altro abbiamo da poco festeggiato i due anni di presenza a Roma e siamo contenti di poter offrire delle scontistiche per i nostri utenti. In particolare per Natale abbiamo previsto un raddoppio del wallet per chi spende 20 euro, ne avrà 40 a disposizione, fin da oggi in realtà a partire dal 14 dicembre e arrivare fino al 26. Mentre per l'Epifania abbiamo previsto un 25% di sconto per tutti gli utenti che utilizzeranno Link. A queste due offerte ne saranno aggiunte delle altre che non anticipo ma che possono essere scoperte da tutti i nostri utenti sulla nostra app e sugli altri canali di Link by Superpedestrian.